amici miei e pokemon art e col french milanese abbiamo fatto le compere e quindi abbiamo preso un po di pacchettelli dell'edicola e ce li apriamo amici miei volentieri vedete questi li ha messi a quattro cose un po vege ma sempre belle e in più ci abbiamo anche la nuova quella che ci piace a noi evoluzioni e amici e spacchettiamo spacchettella in allegria io direi di iniziare subito da questo mitico mitologico no con questi ogni del tuono no e vabbè amici glaciazione plasma una roba un po vege però li hanno ributtati fuori in edicola a quattro eurelli con questo visual la talpona mitologica e vabbè amico mio apriamo bene oggi sforbicciamo in allegria perché sono un po di fretta e quindi così la pacchettella per i miei collage le mie composizioni non si rovina e amici vediamo bene spostiamo un po qui perché sto un po tiny vediamo questo pacchetto che cosa ci riserva cose vege sempre belle ivi starlight dratini che non riesco a evolvermi l'evoluzione nel pokemon nidorano rattata dino executor bello e vedete che ogni tanto ci mettiamo da parte una bella team plasma di b sharp e poi nidorino ingazzoso pure questo bello onyx e codicello e poi amico direi di aprirci pure questo no cioè facciamo due vintage e due nuovi vediamo questo confini confini varcati è amico confini varcati amici miei è il frecci milanese è arrivato finito sant'ambresa e allora vediamo bene beh comunque erano sempre figure mitologiche e vediamo qua buoneri ha quattro orelli nell'ediciola benipede queste ce le abbiamo proprio tutte miaut ah guardate che bombarda me l'ha regalato gli amici miaut no che sembra un po un manechineco col suo ocanè un bel miaut ed ecco qui e poi tangla no ma come ropt evolucione e va bene questo qui apriamo bim lo pacchettello Evolution e vabbè amici miei e vediamo qua Growlite Rattata Electabuds Magikarp Druzy un bel Magneton Reverse e amico mio che sbombardella Blastoise Full Art quanto è ingazzoso e tokugazzoso ebbè ebbè amici miei e fai graphics e poi continuava così sempre lui qui così poi questo qui è Zeng Zeng e il codicello amico e poi ci apriamo l'ultima questa qui sempre uno nuovo di evoluzioni ce l'apriamo bene vediamo bene amici la fretta non aiuta bisogna spacchettare in con tranquillità però amici miei anche voglio dire il job e c'è bisogno di farlo perché sennò i pacchettelli come ce li compriamo e va bene e vediamo questo tra l'altro ne erano rimasti solo due nell'edigula della metro uno ci abbiamo trovato una bombassa e speriamo pure in questo e vediamo Rattata Diglett Gastly Cut the pie una bella energia yellow e amico e amico la turbassa nine tails che bello no? uno yokai una delle storie di fantasmi spiriti animali giapponesi ma veramente una bella turbo nine tails e amico mettiamo qua e poi star my e poi qui l'allenatore magma un nuovo strumentello e amici miei al contrario e dritto il codicello cari amici beh con questa direi queste due bombarde ma anche qualcosa di carino di vejo matanè ok Grazie a tutti.